la honda con la cb500 x mette in commercio una novità molto importante perché la moto è la prima crossover entry level ad entrare in listino in italia la moto è costruita sulla piattaforma comune con le sorelle cb500 f e cbr 500 r moto appositamente progettate per soddisfare le nuove regole sulle patenti europee a2 in vigore da gennaio anche in italia la base tecnica della cb500 x è la stessa che equipaggia le sorelle più stradali quindi ritroviamo il telaio in acciaio a diamante il motore bicilindrico da 470 centimetri cubici ma le sospensioni sono diverse perché l'escursione è cresciuta fino a 140 mm in modo da avere più luce a terra e affrontare meglio tutte le asperità stradali il design si ispira all'ammiraglia di casa onda la cross tourer 1.2 le equiline si riconoscono soprattutto nella vista laterale caratterizzata dal nuovo serbatoio maggiorato nella capacità rispetto a quello delle sorelle cb500 f e cbr 500 r da cb500 x la onda dichiara dei consumi bassissimi e infatti durante la nostra prova siamo riusciti a mantenere un consumo medio di oltre 27 chilometri con un litro questo vuol dire che con i 17 litri del serbatoio si possono percorrere oltre 400 chilometri con un pieno la posizione di guida della cb500 x è compatta ma comoda la sella è bassa e il manubre vicino al corpo il busto è eretto come su una tourer di grossa cilindrata e solo le pedane risultano un penetrate la protezione aerodinamica è buona e anche il passeggero si è decomodamente la facilità di guida è la dote che i progettisti onda hanno perseguito su questa moto e possiamo dire che l'obiettivo è pienamente centrato perché la cb500 x mette davvero a proprio agio tutti i motociclisti anche i più inesperti la maneggevolezza è ottima e il feedback trasmesso dalle sospensioni è di grande sicurezza di marcia il motore è silenzioso e non vibra ma se volete spingervi verso i regimi alti mostra un carattere grintoso e vivace ottimi freni grazie anche alla bs di serie che corre in aiuto si fondi scivolosi e nelle frenate da panic stop sempre frequenti nella guida in città la cb500 x è già disponibile presso l'intera rete dei dealer onda ad un prezzo molto interessante 6100 euro franco concessionario abs di serie a se Grazie a tutti